Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Mirax e quest'oggi inizierò una nuova serie nella quale analizzerò per le armi più importanti del gioco Call of Duty Black Ops 2 le varie classi che possono essere associate ad esse. Oggi inizieremo con il primo episodio e l'arma che andremo a trattare si tratta di una SMG ed è il PDV-57. Qui potete vedere un gameplay registrato su Ride, una demolizione, con un PDV dotato di impugnatura e caricatore rapido. Ovviamente gli accessori sono molti, vari e tutti estremamente buoni per essere utilizzati su questa arma. Innanzitutto volevo dirvi che il PDV non è più lo stesso che era stato fornito all'inizio del gioco, quindi all'inizio del gioco il PDV era un'arma estremamente ma estremamente potente, zero rinculo, caricatori ampissimi quindi 50 copi, questa feature è rimasta ancora per quest'arma e una potenza strabiliante soprattutto con il silenziatore. Recentemente il Treyarch ha deciso di rilasciare delle patch circa un paio di mesi fa per correggere alcuni problemi tra virgolette di quest'arma, cioè il problema era semplicemente il fatto che fosse estremamente potente. Hanno corretto questa potenza dell'arma cambiando alcuni parametri, quindi magari diminuendo leggermente il danno inflitto e cosa che si nota molto molto più evidentemente proprio usando da quest'arma è il notevole rinculo che è stato aggiunto al PDV. Quindi se all'inizio il PDV aveva praticamente zero rinculo verso l'alto con potenza strabiliante ho detto con il silenziatore, adesso in ogni caso sia col silenziatore che anche con accessori normali escludendo il silenziatore stesso, l'arma tende molto, ma veramente molto perché si nota in maniera molto pronunciata, a sbandare verso l'alto quindi un'arma che decisamente non fa, al caso di molti giocatori, nelle lunghe distanze. Infatti il PDV è un'arma che vi consiglio nettamente nelle distanze medie-brevi. Ovviamente da vicino è un'arma estremamente potente, con pochi colpi si riescono ad ammazzare i propri nemici. Purtroppo per tutte le SMG che andrò ad analizzare in futuro, e specie anche per questa ma in generale con tutte le armi, la connessione gioca un ruolo decisivo. In questo caso la connessione che ho a casa mia è abbastanza buona, quindi comunque mi permette di avere, diciamo, un basso spreco di colpi per uccidere i nemici. Magari alcune connessioni diverse permettono invece un utilizzo maggiore di colpi. Dove possiamo usare quest'arma? Qui trago in esempio quattro mappe che presentano spazi per la maggior parte piccoli e anche comunque grandi. Per esempio un i-jacket, un plaza, un stand-off o addirittura anche un Yemen. Quindi tutte mappe che sono caratterizzate da un'ambivalenza di presenza di spazi piccoli e spazi grandi. La classe che avete visto nei gameplay precedenti su Ride, però non è l'unico tipo di classe da utilizzare col PDV, ce ne sono molte altre. Per esempio, se volete migliorare la precisione sparando senza mirare, usate allora il mirino laser con caricatori magari rapidi. Oppure se volete essere più precisi, utilizzate un mirino reference che vi dà maggiore precisione e vi consiglio per essere più precisi di sparare a raffiche, non in continuazione se non l'arma, come ho detto, sbanda sempre verso l'alto. Oppure se decidete di aumentare leggermente la portata della vostra arma, allora potete inserire una canna lunga. Quindi una canna lunga vi permetterà di uccidere i nemici un po' più distanti. Come conclusione, possiamo dire che è positivo, abbiamo nel PDV caricatori molto grandi, buona letto di fuoco e ottima nel corto e medio raggio. Purtroppo il rincuo è evidente e questo è un problema molto molto grave. Bene, con questo è tutto, si conclude questo primo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso in cui lo sia vi chiedo di lasciare un like, un commento e soprattutto fateci sapere se questa serie vi possa interessare o meno, così nel futuro potrò riproporvi nuovi episodi. Grazie per aver visto questo video e a presto! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video!